La TV di Stato siriana mostra il martoriato quartiere di Baba Amro, soborgo di Homs, bombardato per il secondo giorno consecutivo dai caccialealisti. Le telecamere mostrano i covid e i ribelli, i tunnel, i depositi di armi scoperti. I raid aerei sono una risposta dal presidente Bashar al-Assad all'attacco a sorpresa degli insorti che stanno tentando di riprendere il controllo della città. Homs gioca un ruolo vitale nel collegamento fra le basi militari governative e la costa mediterranea. È anche un luogo simbolo dello scontro fra regime e insorti. Un anno fa fu teatro di un lunghissimo e sanguinoso assedio, durato un mese con centinaia di morti, al termine del quale la roccaforte ribelle venne spugnata dai legalisti.